Come un fiore Gomito-ginocchio, seconda armonia, tutto si apre E dopo fa il vento fra le orecchie Ci sono prima gli occhi e poi il corpo La primavera L'estate, come l'aquila, come l'airone, sono uccelli che vedono molto bene da lontano E siccome mi dici che questo è un calcio, no? Le braccia sono... Se colpisci solo di pancia, non avrei bisogno delle braccia Ma se colpisco simultaneamente, sia di dita che di piede, allora sì Ah, anche questo è un colpo! Se fosse solo gamba, non ho bisogno delle mani Se invece sono così vicino... E ci arrivi... Ci arrivo così e ci arrivo così Benissimo E per quello che ho le armonie Però sono più vicino di un calcio lungo, eh? Ok È una distanza ravvicinata E' una distanza E' una distanza che si spandola che si spandola Nell'inverno si scompare Anche lo sguardo non è concentrato ma si nasconde Perché si dice che la preda mi vede se io la fisso a lungo Mi sento Ho il nemico Ci appena Quindi sono qui Inverno Inverno Primavera Gomito ginocchio Secondo armonia Energia negli occhi questa volta Estate Espansione in sei direzioni Mano piede Gomito ginocchio Spalla anche Autunno Il cin nel petto La tigre Inverno Scompaio Primavera Lo sguardo Estate La ironia Inverno Il cin nel petto Risucchio le braccia all'interno E quinta e senza al centro Loro invece al centro Mettono questa terra Che è raccolta E distribuzione Vi faccio vedere ancora una volta Molto carino Tecnicamente è difficile avere le tre armonie esterne Wai Sang H Le tre congiunzioni esterne Tecnicamente Perché Spalla Anca Gomito ginocchio Gomito ginocchio Mano piede Questo tecnicamente è difficile Spalla Anca Gomito ginocchio Mano piede Questo è difficile Tecnicamente Essere collegati Ma non è la cosa più importante La cosa più importante è Inverno Primavera Estate Autunno Inverno Primavera Estate Autunno Questa è la cosa più importante L'intento che dicevamo la volta scorsa If you may subscribe to my channel I'll be glad C'era a tutti